Ben ritrovati su CGL Bari TV, puntata speciale dedicata all'eccidio di via Nicolò dell'Arca. Bari il 28 luglio del 1943 nel capoluogo pugliese si verificò una delle prime stragi dell'Italia all'indomani del crollo della dittatura. Sono passati 70 anni da quella strage che fu di 20 morti e una cinquantina di feriti. Studenti media universitari, insegnanti, operai morirono sotto i colpi dell'esercito fascista. Siamo stati nella sua casa a Milano ad intervistare Giuseppe Lopez, 100 anni fra qualche mese, unico sopravvissuto alla strage di via Nicolò dell'Arca. Anche noi, dice Lopez, eravamo armati, ma solo di entusiasmo. Vediamo. Giuseppe Lopez, lei ha partecipato alla manifestazione del 28 luglio del 1943. Cosa ricorda di quella mattina? Il corteo per le vie della città, questi studenti? Noi eravamo tutti studenti universitari. No, l'università era lì a due passi vicino alla federazione fascista. E ci eravamo riuniti. Noi vogliamo fare una bella dimostrazione, a via sparare. Come facciamo per avvicinarci al cinema Umberto, che era a 50-100 metri dalla federazione fascista? Cominciano a dire, via, lontano, tu, 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 cominciano a sparare in aria. Beh, quelli, un bel momento, temendo, ma anche però c'era un risvolto, era tutto a guardia della federazione fascista. L'antifascismo esisteva solamente nella memoria. Quindi eravamo tutti studenti universitari e volevamo inneggiare in quel momento, senza avere nemmeno un bastone, alla fine del fascismo, il 28 luglio del 1943. Beh, quelli naturalmente ci isolarono e senza che noi avessimo nemmeno un bastone cominciarono a sparare contro di noi. Dalla relazione dei carabinieri è venuto fuori che il primo a sparare fu un sergente di marina, un tale Carbonara, assieme ad alcuni individui oppositori, da dietro le finestre della federazione. Subito dopo il reparto dei soldati iniziò a sparare contro i manifestanti. Andarono così le cose? Questa è la storia che io ho vissuto. Io solamente che mentre stavo lì e mentre avveniva tutto questo gazzaghe, fui colpito, ferito e mi spaccarono l'addome, l'osso maggiore e fui ricoverato all'ospedale dove stetti per dei mesi, perché la frattura del femore è chiaro. E quindi mi fece protagonista, perché non solo io avevo i trascorsi antifascisti, ma ero stato ferito. Spaccare il femore significa stare dei mesi ormai impotente. Ci fu Aldo Moro che ci garantì, perché avevano messo l'ordine di cattura contro di noi come autori di qualche cosa indegna, cioè da fascisti. Allora dicevano sì, non siamo le vittime, eccetera. Allora Aldo Moro revocò l'ordine di cattura nei confronti di noi che eravamo le vittime e allora da quel momento avevamo la pace, perché nessuno osò mettere in dubbio la nostra vera fede. Quindi trovavamo subito da parte di Aldo Moro la tutela. Ma da chi fu soccorso, se lo ricorda? Beh, lì c'erano di tutti, fascista e di fascisti, soprattutto c'erano i fascisti. I fascisti erano contenti di assalirci, perché noi eravamo solamente armati di entusiasmo, mica avevamo armi. Ma mentre noi ci avvicinevamo per solidarizzare e per essere gioiosi, quelli erano tutti fascisti, dove stavano gli antifascisti. Ma eravamo pochi. E' come tutti i clandestini. Ci conoscevamo appena, uno per uno. Non potevamo fare la propaganda antifascista, no, tutt'altro. Ecco perché poi quel giorno fummo assaliti, perché erano tutti fascisti, tutti quelli che stavano a guardia della federazione. Non è che c'erano come antifascisti, erano come guardie dei fascisti, i quali erano felici di vedere queste orde. Quindi in quel momento trionfava il fascismo. Quindi può darsi pure che lei sia stato ferito e sia stato soccorso da un fascista. Naturale, può darsi pure. Ma si ricorda dove è stato trasportato? In ospedale? In ospedale, io stavo in ospedale. L'ospedale era sulla via di Bodugno, era l'ospedale più importante di Bari. E lì fui ricoverato per settimane, perché non è che con la frattura di un febbre è tutto buono, è un vegetale. E si ricorda qualcun altro che fu ferito o ucciso? Civera, uno scultore civera, che poi morì a poco, a qualche giorno, che mi ricordo che me ne ci portavano all'ospedale di Bodugno, lui stava sul letto sopra la mia testa, e cadeva le gosce di umido. Era un sangue di codi che era ferito, e stava sul tetto, sulla mia testa. E sulla mia testa pioveva il sangue di quello lì. Quindi puoi immaginare, non è che erano cose allegre, era la tragedia, l'entusiasmo per la fine del fascismo da parte di gente in difesa e senza armi, e questo entusiasmo castigato da tutti i chiari che erano fascisti vicini alla federazione, e che non vedevano loro disparare su di noi, che sapevano di cogliere i veri loro nemici, cioè gli antifascisti, evidente. Facciamo un passo indietro, lei che scuola ha frequentato? Ho frequentato il liceo classico al centro di Bari, insieme ai Sorreddino, ai Tiberini, tutte le famiglie, bingozze. Io avevo Angelico Tosti e Cardarelli, e ricordo tutti i grandi professori che mi hanno formato. E io mi ricordo che poi fui cacciato nella terza liceale, organizzai uno sciopero di 20 giorni, e allora io mi ritirai dal liceo, dopo sette anni che ero stato interno, ero stato cinque anni esente dalle tasse, fino alla quinta ginasia, non pagavano le tasse, quindi avevo tutte 9-10. Però allora sorse la necessità che io dovesse cautelarmi, allora uscii dal liceo e feci da privatista, e le compagnie mie che erano state privatiste, invece interni sette anni, furono bocciate a luglio. Io da privatista, mezzo a una massa di gente che aveva studiato solo privatamente, dei somari autentici, io ero un genio, avevo fatto sette anni di interno, con la dispensa dalle tasse, e allora fui promosso a luglio da esterno, da privatista, eccetera. In che anni ha frequentato l'università? Ricorda qualche docente? Ricorda Aldo Moro? Ho fatto l'esame di penale con lui, poi avevo collaborato politicamente, lui mi aveva mandato a Napoli durante la guerra, con un messaggio militare, quindi è una cosa importante, perché portare un messaggio in tempo di guerra, che io poi non è che ero entusiasta, perché stare sui treni, l'inglese sparava sopra i treni, quindi io non ero entusiasta, però non mi potevo sottrarre, anche se avevo la FIFA, ma ripeto, il coraggio si può estrinsecare in mille modi, ma stare sopra un treno, che sa che gli inglesi, che gli apparecchi mitragliano, e dopo di difendere, quando vedi su un po' il treno, e fai trrrrrrrr, dove di difendere, uscivamo nelle campagne, scappavamo dalla campagna, ed era la mezza salvezza, perché quelli degli apparecchi, non potevano individuare i fuggianti, ma però sui treni sparavano, ecco. Come ha conosciuto gli oppositori del fascismo a Bari? Cifarelli, Tommaso Fiore, La Terza, come li ha conosciuti? Io vivevo in quelle case, alla casa di Tommaso Fiore, gli sono campati, tutti gli antifascisti, mi conoscevano, io la notte, con la bicicletta, Turing, di alluminio, il far, c'era il buio, sai, c'era l'illuminazione, con un bel faro potente, uuuuuh, a mezzanotte, no, le tedesche solamente camminavano, quindi, in noi, era tutta gente, che o non aveva i mezzi per camminare, o aveva paura, e io ero, a mezzanotte non camminava nessuno, tu giravi tranquillissimo, e io ero felice, perché non c'era un vero pericolo, a mezzanotte non camminavano nessuno, solamente i tedeschi, drum, 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 chi? Deve passare, dicevano, questo deve essere un personaggio importante, un politico importante, chi è che a mezzanotte va camminando, durante la guerra col buio, sistematico, e io approfittavo di questo, e facevi i comodacci miei, e facevo l'antifascismo, vero, eh? C'erano stati arresti, prima della caduta del fascismo? Dunque, prima della caduta del fascismo, io frequentavo anche la federazione fascista, ieri c'era Giovanni Costantino, era il federale di Bari, Cesare Diomede Fresa, era l'amministratore del partito fascista a Bari, e Giovanni Costantino, che poi aveva i fratelli che erano pure avvocati, Giovanni Costantino era il federale di Bari. Quando ci chiamarono, perché avevano scoperto che noi figgevamo di essere aderenti al fascismo, ma combattevamo il 37, soprattutto, quando ci chiamarono, mi ricordo, sulla federazione fascista, di Viviani Colò dell'Arc, Giovanni Costantino, quando arrivò, ci convocava ognuno, dicendo che la clemenza del Duce ci aveva risparmiato il processo, e non ci mandava il processo. E io dicevo, la clemenza del Duce, allora, quando arrivò il turno, io ci sentivano uno alla volta, quando, tu si Lopez, e io, federale, la sua meraviglia dice tutto, sono stato per tre anni il segretario federale del lavoro, delle camere del lavoro, per tre anni, io ero il segretario a Bari, provinciale, della Camera del Lavoro, per tre anni ho fatto il segretario della Camera del Lavoro. All'indomani della caduta del fascismo, che cosa è avvenuto a Bari? Io per due anni mi avevano chiamato in federazione, e mi avevano andato obbligato praticamente a fare il fascista, io l'avevo fatto, ma però, loro erano così cretini, che non capivano, che avevano il peggiore nemico. Mi ricordo che quando venne il federale a Bari, il segretario del partito fascista, Mussolini, e mi dissero, mi dissero i compagni, i compagni, erano fascisti, dicono, papì, ci vediamo, alle due e mezzo, ci attende, ci attende il duce, sopra la federazione. Sono detto, no, io vengo da sul, io voglio sentire il discorso dal duce, in piazza prefettura. Cioè, mi disse, chiate voi, cretini, deficienti, io dico che, lo voglio sentire, il discorso del duce, al termine di questa ardente, solare giornata, quindi, fascista, voi non vi attendete da me a un discorso politico, nel senso tradizionale della parola, ad atti di pace, risponderemo con atti di pace, ad atti di guerra, frase che ha analizzato, io ti dimostro che quello era un cretino, non sapevo parlare nemmeno in italiano. In seguito ai fatti del 43, ha poi partecipato alla vita politica della città, ricorda com'era l'ambiente forense, ricorda Papalia, ricorda qualcuno degli altri avvocati democratici? Avendo l'amicizia, andando a fare il resocontista di Radio Londra, la notte, a mezzanotte, scelta un resoconto, o papà dei cifarelli, e degli altri antifascisti, Fiore, a casa di Tommaso Fiore, la notte andava a recitare che cosa aveva detto Radio Londra. Il messaggio è il messaggio di chi ha lottato, di chi si è inorgoglito di avere un ruolo civile, quasi eroico, ma dico quasi, perché era sicuramente eroico, perché durante la guerra a fare l'antifascista si rischiava la pelle, ma voglio dire che uno lo sentiva come un desiderio di collaborare al risorgimento italiano. Questa era la vera la vera volutà che noi provavamo. Io la sentivo in una maniera e riuscivo a organizzare entusiastiche adesioni. Vorrei dire che facciano esperienza attraverso i ricordi del passato, interpellando i loro genitori che in parte non possono essere esenti da una educazione politica. Quindi ai giovani il messaggio è quello di far tesoro anche dell'insegnamento dei genitori. Di pensare che attraverso il ricordo, escavando nel ricordo dei loro avi, dei loro genitori, capire che cosa abbiamo fatto di buono, se l'abbiamo fatto, e avere il culto di quella forza dei sentimenti politici che naturalmente per chi li capisce sono una cosa molto seria, ma non sempre e di questi tempi bisogna stare molto attenti a non scambiare per politica una criminalità ribalda per ottenere dei risultati che non sono la salvezza democratica del Paese, e tutt'altro. è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento viene onda anche su Delta TV canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata tutte le mattine intorno alle 8 in replica alle 24 grazie per l'attenzione arrivederci per l'attenzione